Sulla questione dell'invalsi presso la Commissione Cultura della Camera si sta giocando una vera e propria partita a scacchi fra le opposizioni e il Movimento 5 Stelle. La vicenda nasce da una risoluzione presentata nei mesi scorsi dal deputato del gruppo misto Gabriele Toccafondi con la quale si chiede al governo di impegnarsi per garantire la prosecuzione dell'attività dell'Istituto. Risoluzione che per la verità ha già incassato l'appoggio delle deputate Piccoli Nardelli del PD e Valentina Aprea di Forza Italia. Entrambe hanno sottolineato quanto sia essenziale per la scuola italiana l'attività di valutazione svolta dall'Istituto. In occasione della prima seduta della Commissione il 21 febbraio il Movimento 5 Stelle aveva fatto sapere che avrebbe predisposto un proprio documento di cui però non c'è ancora traccia. Nei giorni scorsi sempre dal Movimento facevano sapere che la risoluzione Toccafondi non sarebbe stata neppure messa ai voti perché sul tema verrà aperto un tavolo tecnico presso il Ministero. Il problema è molto complicato anche perché nel disegno di legge semplificazioni predisposto dal governo si parla di un possibile accorpamento dell'invalsi con l'Anvur, l'istituto che si occupa della valutazione del sistema universitario. Il fatto è che probabilmente sulla vita futura e sulle funzioni dell'invalsi non esiste identità di vedute fra Lega e 5 Stelle e questo spiegherebbe il tentativo del Movimento di evitare il voto sulla risoluzione Toccafondi. Nel caso di voto infatti quale posizione assumerà il Movimento 5 Stelle? Continueranno a sostenere che le prove invalsi vanno abolite come è stato ripetuto più volte durante la campagna elettorale? Nella seduta di mercoledì 13 marzo Toccafondi ha chiesto esplicitamente al Presidente Gallo, anche egli del Movimento 5 Stelle, di chiarire come si intende procedere. A quanto ci ha riferito lo stesso Toccafondi la risposta è stata chiara. A partire dalla prossima settimana verranno avviate audizioni di associazioni e organizzazioni sindacali, dopodiché si passerà al voto e a quel punto finalmente sapremo qualcosa di più a proposito delle idee del Movimento 5 Stelle sulla vita dell'invalsi. Su questo tema che è di grande interesse per i nostri lettori torneremo ancora a scrivere, quindi inviateci i vostri commenti, commentate su questo stesso canale qui sotto, mandateci le vostre email e soprattutto continuate a seguire anche il nostro sito www.tecnica-dellascuola.it Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.